Un'edizione quella di quest'anno del Fano International Film Festival che offre una serie infinita di spunti, di riflessioni e di interrogazioni in merito al panorama cinematografico recente. Il cortometraggio è molto vicino al centro dell'universo audiovisivo di oggi, proprio in virtù della sua brevità, attraversa con disinvoltura, generi, nicchie, categorie e formati e Fano, da 27 anni, è la capitale indiscussa di questa categoria cinematografica. Un'edizione in rosa, visto che a vincere questa edizione con Persefone è la foggiana Grazia Tricarico con il miglior film d'autore italiano. È un film quasi mitologico, si intitola Persefone, è una ragazza giovanissima che proviene da una scuola importante italiana, importantissima, il centro sperimentale di cinematografia di Roma. È una ragazza foggiana che già è stata scoperta in America e non sarà con noi perché? Perché chiaramente è stata premiata a Los Angeles e è andata a ricevere anche il premio americano. Questa edizione del festival viene segnata anche dall'anteprima mondiale assoluta di Pierpaolo, film sulla vita di Pierpaolo Pasolini del regista spagnolo Miguel Angel Barroso, che sarà presente alla proiezione martedì 20 ottobre nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna, in occasione del quarantesimo anniversario della morte di Pasolini. Anche un omaggio a Pasolini, un omaggio importante. Sì, importantissimo, fondamentale. Difatti l'evento inaugurale è Pasolini 40. Sono 40 anni dalla morte di Pierpaolo Pasolini e noi dedichiamo due iniziative straordinarie. Una mostra di pittura di David Parenti al fuoi del Teatro della Fortuna e dopo cena un film in anteprima assoluta nazionale che si intitola semplicemente Pierpaolo di un giovanissimo regista madrileno.